Ma innanzitutto cosa sono le banche di credito cooperativo? Sono delle piccole banche che si reggono sul principio mutualistico, tanti soci radicati nel territorio e che a dir del vero nel momento del massimo della crisi sono state molto molto vicine al sistema in particolare delle piccole e medie imprese. Quindi è un settore strategico. Ora l'intervento del governo che non è ancora ben precisato perché queste informazioni le conoscono soltanto a Palazzo Chigi non essendo ancora pubblicato il testo fa una cosa a nostro avviso totalmente ingiustificata. Bene è il tentativo di mettere a sistema, in qualche modo dare una garanzia dall'alto mantenendo il radicamento nel territorio e individualità. Non possiamo però accettare che in qualche modo da questo processo vengano ad personam esclusi alcuni istituti magari non so territorialmente legati a chi in qualche modo regge oggi Palazzo Chigi. Cioè le banche toscane sta dicendo alcune? Non soltanto le banche toscane però in buona sostanza non si capisce, non ha nessuna logica, escluderne alcune e dirottarle verso il sistema delle banche SPA, società per azioni, passare to court dal principio mutualistico al principio lucrativo evidentemente aprendo lo spazio delle speculazioni che in questo momento francamente il governo potrebbe risparmiarsi.